Eccoci i ronati di un Pokémon SoulSilver Bene, ho allenato molto la squadra Come potete vedere E un anche nuovo membro Blazier, cioè Lapras Si può catturare nella grotta di mezzo Facendo surf su degli specchi d'acqua Un mio amico, Mr.Tarkle60 Ha fatto vedere dove si cattura E vi linkerò il link della descrizione Cioè, vi linkerò il suo canale nella descrizione Bene, adesso mettiamo il primo allenatore Non è molto forte, infatti Ecco che è morto Prendiamo il suo numero di telefono Sì Successivamente ecco un altro Avrà un poliwag e un poliwir Che non saranno un problema per il nostro fluffy Ecco battuto anche il marinaio Anche lui ci dà il suo numero di telefono Bene Ora proseguiamo questa piccola avventura nel faro Battendo questo allenatore Bene Bene, ecco fluffy che si evolve Si Diventa un Ampharos Appariamogli il tono pugno Appariamogli il tono pugno Eccolo Ampharos Direi di allenare un po' Glacier Per proseguire Per proseguire dobbiamo stare da qui Può sembrare una normale finestra Invece Invece non lo è Comunque Farò un glow lit Noi avremo Glacier Ti attacchi d'acqua Anzi ne ha anche 2 di growlit Quindi siamo molto A vantaggiare su di lui E infatti l'abbiamo battuto Quando entriamo qua E Ci catapulteranno Si Fuori dal faro Poi rientriamo E se vogliamo battere con l'allenatore Lo battiamo A me non mi va Battiamo questo allenatore Per il nostro Glacier Era uno scherzo battere Questo avicoltore Perchè Perchè all'attacco Geloscheggia Maffiro Maffiro Resiste E lo finiamo con un corpo scontro Sarà Spiro La prossima scelta e lo battiamo sempre con ce lo scheggiamo bene saliamo saliamo ancora perchè sono sceso non lo saliamo come ho detto già e lo battiamo col salernatore poliwir direi non è che fu direi di vabbè usiamo un corpo scontro e lo battiamo bene saliamo questa scala e siamo arrivati qua abbiamo un jasmin che dice di andare a fiori scopoli per prendere una lecina per anfaros infatti nella prossima parte andremo appunto a fiori scopoli adesso direi di uscire al faro nella prossima parte andremo a fiori scopoli io vi saluto ciao 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 ciao